Amici internazionali, benvenuti a una nuova sensazionale offerta di armi da parte della vostra affidabile Repubblica. Quest'oggi siamo felici di presentarvi l'ultima sensazionale creazione in termini di armamenti. Blindo, il primo caro armato 100% made in Italy. 70 tonnellate di acciaio inox 1810, garantito a vita, con fondo fuso alto 20 cm, antiaderente per rimuovere facilmente anche i ribelli più ostinati, ma sì, tutte le giunture, guardate, fatte a mano dai migliori artigiani dell'aldilà, con i componenti più avanzati del settore, cingoli con cambio Shimano, sedile interno ortopedico con dog in legno e cannone a precisione aumentata grazie all'esclusivo brevetto Tabula Rasa, che garantisce la distruzione totale anche a chilometri di distanza, senza risparmiare villaggi, scuole, ospedali. Blindo è il leader nei cararmati da generazioni, usato da oltre 20 eserciti in tutto il mondo, orgoglio del nostro bel paese ed è disponibile nei colori verde mentale, grigio e rosa shocking per chi non ha paura di farsi vedere dal nemico. Approfittate di questo momento d'oro di incertezza mondiale, perché la guerra potrebbe scoppiare da un momento all'altro e voi non potete farvi cogliere impreparati. 50% di sconto se ne acquistate due, più un altro 20% chiamando adesso questo numero in sovraimpressione. Ve lo portiamo a casa, senza impegno e avete 20 giorni di tempo per restituircelo. Ma cosa volete di più? L'Eritrea! Assicuratevi il vostro blindo, ma fate in fretta, perché l'offerta, o meglio, l'Ultimatum scade domenica e i primi 20 che telefoneranno in omaggio una bomba a mani in esplosa della Prima Guerra Mondiale, una mina anti-uomo, uguale a quelle che vediamo sotto banca in Siria e un frullatore a immersione, ma non perdete tempo! Chiamate il numero in sovraimpressione e approfittatene subito, perché l'Italia ripudia la guerra, ma non gli affari!